In seguito alla dichiarazione dell'Unione Russa dei Rettori a sostegno dell'invasione dell'Ucraina, il Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Edoardo Alesse, sottolineando la condanna da parte dell'Università di ogni forma di aggressione territoriale di un paese nei confronti di un altro, di concerto con il Prorettore Delegato per gli Affari Internazionali, il Professor Bruno Rubino, ha deciso di disporre la sospensione delle collaborazioni e degli scambi istituzionali con gli Atenei della Federazione Russa firmatari della dichiarazione tramite i loro Rettori, in quanto la dichiarazione da loro sottoscritta è palesemente opposta ai valori dell'Università. Era impossibile continuare ad avere una normale collaborazione con le istituzioni, perché le normali collaborazioni implicano anche firma di accordi comuni, di documenti comuni, e pensare che il nostro Rettore possa in questo momento avallare di firmare documenti in cui ci sono partner che invece sono apertamente a favore dell'invasione dell'Ucraina è una cosa inaccettabile proprio per i nostri principi. Abbiamo vari nostri studenti doppio titolo che sono in Ucraina in questo momento, sotto le bombe, e studenti ucraini che sono qui da noi e che stanno soffrendo chiaramente sapendo che la loro famiglia sta in quella situazione. Per quanto riguarda la Russia, i nostri rapporti erano più di tipo sui progetti di cooperazione, che erano progetti chiaramente ispirati a quelli che sono i principi dell'Unione Europea. L'interruzione quindi è prima di tutto simbolica dal punto di vista di non poter accettare questo punto di vista che a questo punto è contrario al nostro Statuto, contrario alla nostra Costituzione, contrario a quelli che sono i principi dell'Europa. Il Rettore evidenzia il carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico dell'Ateneo, così come riporta l'articolo 1 dello Statuto e quindi non intende mettere in discussione le collaborazioni con singoli e accademici russi che potranno essere portate avanti valutando caso per caso sulla base di accordi individuali. Il Rettore non sta dicendo di interrompere i rapporti con i ricercatori russi. I singoli ricercatori sappiamo bene che in molte situazioni sarebbero contrarissimi a quello che sta avvenendo. Un certo numero di colleghi e rettori delle università russe, a partire dal presidente della conferenza, ha firmato questo documento piuttosto pesante dal punto di vista dei diritti umani dei nostri amici delle università ucraine. Grazie.